Fiera del Levante, laboratori urbani, mettici le mani, presentata questa mattina nel padiglione 152 della Fiera del Levante, la nuova strategia regionale per l'utilizzo degli spazi dedicati ai giovani. Guglielmo Minervini e Nichi Vendola spiegano. In 151 comuni su 258 noi abbiamo spinto perché grandi immobili urbani, degradati, grandi fabbriche, dismessi o manufatti pubblici, anziché diventare delle discariche, fossero trasformati in luogo in cui dentro avessero tutto. All'incontro, nello spazio giardino del padiglione della regione Puglia, all'interno della Fiera del Levante di Bari, ha partecipato l'assessore al lavoro del comune di Milano, Cristina Tajani, pugliese di origine, che è venuta a testimoniare l'esperienza lombarda del riuso degli edifici abbandonati, con particolare riferimento all'utilizzo dei beni confiscati alla mafia. Chiara Pirovano, WWF Italia, responsabile Campagna Riutilizziamo l'Italia. Si tratta della più grande opera di infrastrutturazione socioculturale che sia stata fatta in Europa negli ultimi decenni, perché non è aver costruito una bella esperienza in un comune, ma in più della metà dei comuni, su 258 comuni pugliesi, in 150 comuni, noi abbiamo spinto perché grandi immobili urbani degradati, grandi fabbriche, distillerie o cartiere, grandi caserme, grandi scuole che erano in degrado, che erano diventate delle discariche e che magari si candidavano a diventare l'ennesimo ipermercato, supermercato, noi le abbiamo trasformate in luoghi che dentro hanno di tutto, dalle scuole di ballo e di scherma ai centri di produzione audio-video, dai teatri veri e propri alle sale cinematografiche, dentro la possibilità per cooperative giovanili, per gruppi creativi di mettere in piedi attività lavorative, per cui i centri che noi chiamiamo laboratori urbani attirano persone di tutte le età, si possono trovare vecchi, bambini, giovani, anzi sono luoghi dove finalmente tutte le età si mescolano, perché questo accade sempre di meno nella nostra società, sono luoghi in cui si prova a inventare una nuova idea di lavoro e sono luoghi in cui si impara a amare le città curandole, cioè immaginando che la bellezza è anche un problema di come tu colori e organizzi gli spazi della città. Ecco, io sono molto orgoglioso perché i bollenti spiriti sono oggi in tutta Europa considerati una buona pratica, li abbiamo inventati qui in Puglia e sono cose concrete, non sono politiche fumose, sono luoghi per esempio che consentono in alcune realtà a persone con disabilità di trovare gli ausili tecnologici per poter abbattere le barriere comunicative, sono luoghi ricchi di possibilità di fare una socialità consapevole, una socialità arricchente dal punto di vista culturale, anche con l'occasione di inventare un nuovo lavoro e Dio solo sa se non abbiamo bisogno di lavoro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!